Ciao a tutti, sono Lilli Meraviglia Oggi così volevo parlarvi di un argomento a cui penso da un po' Ed è una questione che sta succedendo Io sono veramente sconvolta Quindi, ah Ultimamente ovunque, su ogni social network Le persone fanno di tutto per avere like Perché io, tipo due anni fa Vedendo i profili tipo di persone a caso Che avevano tipo duemila seguaci Duemila like a foto Su Instagram, me lo so fatta due domande Perché comunque era gente così Però non c'era nessun commento Quindi sono andata a cercare E ho scoperto dell'esistenza delle applicazioni Che prima di te ti danno like e seguaci Io in curiosità da tutto questo Ne scaricai una E rimasi sconvolta Ti appare una schermata dove tu ti iscrivi E prima di te colleghi il tuo accanto di Instagram Scegli una foto che hai pubblicato Selezioni il numero dei like che vorresti avere per quella foto Però non è gratis tutto questo Tu devi pagare tipo con dei gettoni Che ti guadagni andando in un'altra schermata Mettendo dei like a caso su delle foto a caso di gente a caso E praticamente tu mettendo like a ste foto Te guadagni i gettoni E tipo te compri mille like E nel giro di due secondi Tipo ti arrivano mille like A quella foto da gente veramente Che cazzo sono Poi fine e basta Mi rimasta tipo sconvolta Tutto tipo così Ho eliminato subito l'applicazione Me ne sono andata E sono andata così a fare Ma cosa? Io non capisco tutto questo Io sto vedendo che adesso Avete presente che si dice Perché la gente farebbe di tutto per dei like così Però io prima facevo Oh mamma mia Ma sti cazzi Cioè non me ne importavano Diciamo che adesso Visto che sto in mezzo a tutto questo mondo dei social Mi sto rendendo conto Che veramente la gente farebbe di tutto per dei like Io essendo personaggio pubblico comunque E avendo comunque dei seguaci A volte tipo mi arrivano messaggi in privato Tipo ti prego fare qualsiasi cosa per un tuo like E io tipo Oh mio dio Ma pure quella cosa su Ask Ti prego mi dai un voto Ti prego like Ti prego fai un cuore a chi segui Cioè tutti questi chiedere like cose Ma perché? Cioè nel senso Perché? Io capisco che con i like uno si può sentire più apprezzato E diciamo È un modo per comunque per chi segue questa persona Dire wow mi ha pensato Quello lì sa chi sono Anche io ho fatto così quando Gianni Morandi mi ha risposto Adoro Cioè io capisco che comunque i like Possono essere diciamo gratificanti Che dici Guarda quante persone piace ciò che faccio Guarda quanti seguaci ho Sì ok ma se sono diciamo tutte persone Che tu sei andato là a dirgli Mi segui Quelli fanno sì ok Però fondamentalmente Cioè loro non è che hanno iniziato a seguirti Perché gli piaceva ciò che facevi Ma più che altro perché tu gli hai detto di seguirti E questo cioè diciamo Io posso capirlo che comunque all'inizio Per chi comunque vuole diventare famoso Tra virgolette Che io veramente anche cioè ci stanno questi termini qua Cioè a me mi hanno etichettato web star Cioè ma che cos'è? Ma che vuol dire? Ma lo smettete questi termini? Mi hanno messo nella pagina vip di Ask Cioè regali vip di Ask Io vorrei essere in quella dei vip di Torino Che adoro Però vabbè Comunque ma che sto dicendo? Comunque sì vabbè mi hanno Cos'è che... Perché stavo a dire queste cose? Eh se volete diventare famosi Che dico famosi tra virgolette Perché non c'è ma che è Però comunque cioè non è facendo così lo spirito giusto E secondo me non dovete partire con l'idea Di voler diventare famosi Perché cioè se alla fine tutti concentri Lì solo per avere i seguaci Mettimi like Sostanzialmente non hanno motivo per farlo Però magari lo fanno Però alla fine vi ritroverete una pagina Che comunque sì Avrà quel tot di seguaci Ma fondamentalmente nessuno gliene fregherà un cazzo Di quello che fate Quindi non metteranno like né niente Sono comunque finti like E ritornando al discorso di quell'applicazione Praticamente tu puoi comunque Realmente avere una foto su Instagram Con anche mille like Avere diecimila seguaci così di bot Comunque c'hai dietro quei like Di quelle persone Se non c'è una persona che realmente Vi segue e vi apprezza Per quello che siete realmente Ma solo uno iscritto a quell'applicazione Che voleva i like Non capisco questa finzione Diciamo io prima comunque C'avevo tipo venti iscritti Però io ero felice dei miei venti iscritti Ti mettevo i video quando mi capitava Perché comunque c'è Prima non è che ci stavo a pensare così tanto Quelli erano veri C'erano vere persone Cioè alla fine anche se c'avevo tipo pochi iscritti Alla fine i commenti ce li avevo C'avevo quelle 100 visualizzazioni Però alla fine nel mio piccolo Cioè Ero felice Ma pure su Instagram Cioè Ne ero pochi però buoni Non un miliardo Che però nessuno sa chi cazzo sono E non gliene frega un cazzo De quello che faccio E non sono realmente seguaci Perché non ci sono quelle persone Perché Cioè mi dispiace per tutta questa fama di like Forse sarò vecchia A gioventù d'oggi Non lo so Non sono così vecchia Comunque cioè Mi sono resa conto Che ci stanno anche comunque persone Di 12 anni che mi seguono Quindi magari Rispetto a loro sono vecchia Quindi Non cadete nel tranello dei like Perché sinceramente Non ci fate un cazzo con i like Ovviamente Ripeto Mi fanno piacere Perché mi fanno capire Che sono apprezzata Questo ovviamente Mi dà più motivazione a farlo Però è comunque una cosa Che ho guadagnato io stessa Con il tempo Senza aiuto di nessuno Ok magari dite pure Ma sto zitto che sei diventata famosa Solo perché Quelli là Ti fanno le parodie Sì ok Ma ci stavo io Quindi è sempre una cosa mia Sai nel senso Sono stata una fonte di ispirazione Per fare un video Che bello brutto che sia Sono comunque caduti Nel mio tranello Non so per chi di voi Mi segue su Facebook Ma io su Facebook Faccio cose completamente diverse Da quelle che faccio su YouTube Sono dei video Possono sembrare Stupidi E senza senso Ma il senso ce l'hanno sempre Ma il mio scopo è proprio questo Fare impazzire le persone Se non capiscono se è vero o no Io siete caduti tutti Nel mio tranello E ora vorrei chiarire Quelli che mi dicono Ma nei video di Facebook Sei serio o no? Ma secondo voi Io veramente potevo pensare Che è una made del futuro Cioè ma che cazzo dite Sono solo cose Che mi vengono in mente Mi fanno ridere E decido di raccontarli Ma a quanto pare La gente è così stupida Che neanche capisce E tutto questo È fantastico E quindi niente Uscite da questo circolo vizioso Delle applicazioni Che regalano finti seguaci Siete voi stessi E avrete anche Il vostro piccolo fandom Hanno fatto un fandom Su una love story Tra Gevedia e Ottavia De una notte al museo Gli Octavedia E quindi Ognuno può avere i fan Quindi Spero che vi sia piaciuto Questo video E ciao Ciao